36 nuovi magistrati assegnati in Sicilia, 1 a Siracusa. Le regioni che riceveranno il maggior numero di nuovi magistrati per i quali la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato l'entrata in servizio sono la Sicilia e la Calabria. 36 andranno nell'isola, 33 in Calabria e rafforzeranno soprattutto gli uffici giudiziari più piccoli con maggiore carenza di organico. Tersa la Lombardia con 39 toga e nessuna delle quali è stata assegnata agli uffici giudiziari di Milano. La Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato la nomina di 238 nuovi magistrati ordinari che hanno completato il tirocinio. Un'assegnazione quindi finalmente rapportata alle necessità e non alla popolazione. Per quanto riguarda la Sicilia i magistrati assegnati sono stati così suddivisi. Agrigento, due giudici e un sostituto procuratore. Barcellona, Pozzo di Gotto, due giudici e un sostituto procuratore. Caltagirone, due giudici. Caltanissetta, due giudici. Due magistrati di sorveglianza e due sostituti procuratore. Enna, un giudice e un sostituto procuratore. Gela, un giudice. Marsala, un giudice e due sostituti procuratore. Messina, un giudice. Palermo, cinque giudici e tre sostituti procuratori. Ragusa, un sostituto procuratore. Siracusa, un giudice. Termini Merese, due giudici e un sostituto procuratore. Trapani, due giudici.